Non vi sono per ora novità, aperture o soluzioni per Acrea, ma solo un tavolo permanente in cui, nell'ultimo incontro, sono state lette le carte e è stato avviato un confronto tecnico per discutere del destino dell'azienda che si occupa di gestione dei rifiuti e che fa capo al comune di Crotone. Abbiamo costituito un tavolo di fatto permanente e ci rivedremo martedì pomeriggio, almeno salvo modifiche dell'ultima ora, per vedere se riusciamo a trovare un po' la quadratura di alcune voci. Abbiamo iniziato a lavorare un po' sui numeri, su alcune anche modalità per cercare di capire come poter continuare l'attività di Acrea. Ci sono i margini per ridurre i costi alla struttura? Dipende da tante situazioni. La struttura dei costi è alta perché risente di alcune criticità e di alcune pesantezze dal punto di vista sia economico che finanziario. Qual è stata la proposta di Acrea? Non c'è stata una reale proposta, noi speriamo che si continui, crediamo e speriamo nella continuità aziendale. Guardi, il futuro ancora dovrà uscire fuori, quindi dobbiamo ancora scoprirlo. Oggi è stato sicuramente un incontro molto costruttivo dove da una parte le rappresentanze sindacali, il CdA di Acrea con numeri, dati e situazioni economiche e finanziarie. E dall'altra parte, oltre alla politica, perché con me c'era l'assessore Cretella, il vice sindaco, l'assessore Scandale, c'erano i dirigenti del settore, l'architetto Domoniani e l'ingegnere Cangemi, ma c'era anche il segretario generale che in un certo senso è il nostro notaio. È chiaro che ci deve essere una convergenza e un punto di incontro. Ripeto, se questo incontro troverà una sorta di allineamento, allora si proseguirà con il servizio e l'affidamento in house ad Acrea. Viceversa bisogna trovare altre soluzioni. Qui, guardate, imballo da una parte la garanzia di un servizio che pagano i cittadini e dall'altra parte una società dove 105 lavoratori svolgono questo servizio e i nodi sono arrivati al pettine dopo 13 anni di gestione che probabilmente hanno portato a una situazione economica e finanziaria di non equilibrio. Il CDA che si è insediato dall'inizio sta lavorando in questa direzione e ha già ottenuto dei risultati positivi. È chiaro che in un'ottica di una visione più lunga qualunque contratto potrebbe garantire questa eliminazione della sofferenza economica e finanziaria. Nel breve periodo ovviamente questo non è possibile e poi su tutto incombe comunque la gara di Arrical della regione Calabria dove l'esternalizzazione del servizio è già per legge. L'unica vera soddisfazione è che abbiamo avuto al tavolo tutta la parte tecnica dirigenziale del settore ambiente per poter entrare nel merito di questioni economiche relative al servizio dei rifiuti. Vi sono dei vincoli, dei parametri imposti dalla legge rispetto all'economicità, alla qualità del servizio e anche ai risultati e alle performance da raggiungere. Ora lo spiraio è che probabilmente ci sono altre risorse da poter recuperare sull'ISPRA, sui parametri dell'ISPRA dove non è stato considerato che l'importo è più IVA, quindi parliamo di diverse centinaia di miliardi d'euro. C'è una partita aperta sulle somme di rivalutazione Istat che vanno riconosciute prima del 2023 e che non sono state riconosciute. Quindi ci sono una serie di risorse che probabilmente si possono recuperare. Il tema reale è che bisogna avere una visione aziendale, non è sufficiente risolvere il problema economico, bisogna fare in modo di rendere tutto più produttivo, quindi trovare i margini per fare investimenti in termini di mezzi, anche in termini di impersonale, cominciare a incentivare che possibano la pensione per rinfrescare anche la pianta organica e quindi la stessa produttività dell'ente. Questo è un compito che spetta ad Acrea e al suo CDA, dal quale ancora onestamente non abbiamo ricevuto, se non una mera analisi economico-finanziaria dove non cadrei tanto dalle nuvole perché che Acrea fosse in crisi si sapeva, lo sapeva Acrea e lo sapeva anche il Comune perché il bilancio d'esercizio 2022 si è chiuso con più di 700 mila euro di deficit. Quindi oggi bisogna essere in grado, al netto del recupero di risorse, di dimostrare una capacità di raggiungere determinati obiettivi. Così si salva guardia del personale e si dà risposta ai cittadini.